La prima è quella di non procrastinare l'investimento ma iniziare a investire molto presto e diciamo in modo continuativo, quindi diciamo evitare di procrastinare e la ragione è che i guadagni si fanno principalmente con l'accumulata dei rendimenti. La seconda regola è quella di ripagare i debiti appena si può, cioè se c'è una disponibilità di liquidità che a un certo punto si rende disponibile una persona a un debito, il consiglio è quello di ripagare anticipatamente il debito, la ragione è che i debiti sono molto più onerosi di qualunque investimento uno possa fare. La terza è quella di non fidarsi troppo di se stessi e quindi diciamo di farsi aiutare da un esperto nella gestione delle proprie finanze. La ragione è che uno sa ma gli altri sanno molto molto di più per la stessa ragione per cui noi ci fidiamo del cardiologo oppure di un esperto dottore. La quarta che è altrettanto importante è quella di fidarsi del cardiologo ma di tenerlo sotto controllo.